La lubrificazione errata è responsabile per oltre il 50% dei guasti ai macchinari con conseguente perdita di produttività e guadagni. Fino ad ora le aziende si sono affidate soltanto sulla lubrificazione ad intervalli programmati e basata solo sui carichi di lavoro. Questa pratica è la causa principale dell'eccessiva lubrificazione dei cuscinetti, ma tutto ciò appartiene al passato. OnTrack SmartLube è il sistema da remoto pensato per conoscere con esattezza quando e quanto ingrassare, risparmiando tempo, soldi e grasso. Monitorando con continuità l'attrito nei cuscinetti grazie agli ultrasuoni, OnTrack SmartLube monitora lo stato dei cuscinetti e il livello di lubrificazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, notificandoti il minuto esatto in cui è necessario ingrassare, rilasciando la corretta quantità di grasso per ristabilire il livello ideale di attrito. Sì, il futuro della manutenzione è alla tua portata. Abbiamo reso la lubrificazione dei cuscinetti semplice ed intelligente. Con SmartLube hai il totale controllo del tuo sistema avendo sempre a disposizione i Key Lubrication Insight, il livello di grasso residuo, la quantità di grasso utilizzata e il tempo intercorso tra due cicli di lubrificazione. È il momento di ripensare al modo in cui eseguire la lubrificazione e portare il controllo di tutti i tuoi cuscinetti nel palmo della tua mano con la sicurezza della lubrificazione da remoto con OnTrack SmartLube.